Buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento all'Arena Paolini della GAM di Torino. Per la rassegna parlare alla GAM. Io sono Paolo Cancedda e oggi in questa giornata vi parlerò di arte e cucina. Vorrei partire per parlare di arte e cucina da un detto che molti conoscono, molti applicano, ma spesso e volentieri neanche ci si sofferma al suo significato, ossia impara l'arte e mettila da parte. È un detto di saggezza popolare, questo lo sappiamo bene o male tutti, e non è detto che non possa essere applicato appunto anche all'arte della cucina, perché in definitiva arte e cucina possono intersecarsi tra di loro. Ma qual è il significato del proverbio? La spiegazione ufficiale ci dice che è bene imparare molte cose, così prima o poi nella vita queste cose ci torneranno utili. Questa però è la spiegazione popolare, ma ce n'è un'altra, molto più sottile, che viene da chi ha inventato il proverbio, che sicuramente era un uomo di vera conoscenza. Diventare un esperto in un argomento e poi ragionare come se non si fosse imparato niente. Magari vi può stupire la cosa, però in fondo quando camminiamo azioniamo dei muscoli senza saperlo. Lo facciamo e basta. Abbiamo imparato come si fa dopo lunghi sforzi e adesso lo facciamo senza pensarci. Abbiamo messo da parte la tecnica e anche la teoria. Così avviene un po' in tutte le cose. Il musicista che compone dopo aver imparato la musica, ma ascolta il cuore, così come il pittore, così come lo chef quando crea un piatto, dopo che hanno acquisito la tecnica la mettono da parte e fanno uscire fuori dalla loro umanità quell'essenza e quell'estro che è insito in loro, senza stare lì più a guardare la tecnica stessa. In fondo chi rimane attaccato solo al concetto dell'arte si può definire un pedante che non ottiene nulla, mentre chi invece la metterà da parte avrà poi un premio perché riuscirà a diventare maestro e quindi a insegnare poi a se stesso. Ma prima l'arte bisogna impararla e c'è poco da fare, non ci sono scorciatoie. La via diretta purtroppo non è sempre quella più breve. Tornando però al nostro detto, se lo applichiamo alla cucina potremo anche parlare di quell'avida conoscenza che forse oggi stiamo conoscendo fin troppo grazie ai mass media, del saper fare, saper creare, saper plasmare prima con la mente, poi con l'immaginazione e infine con le proprie mani. Diciamo che i programmi tv ce ne stanno dando abbastanza rimostranza, anche se poi nella realtà delle cose l'arte della cucina è ben altro. Questo mondo lo sappiamo è abbastanza frenetico e chi ha avuto la fortuna come me di imparare dalle mani di nonna e madre sa che comunque quell'arte che loro avevano insita nel loro modo di fare era un'arte lenta, calma, tranquilla. Lo stesso professor Giovanni Ballarini, che è un accademico della delegazione di Parma dell'Accademia Italiana della cucina, ci dice che l'arte ha a che fare proprio con quel sentimento e passione, anche quando si manipolano gli alimenti, senza passione artistica, pure se tecnicamente si è perfetti, non si riesce a ottenere nulla. Le sue parole sono state molto esplicite in una dichiarazione, in quanto ha proprio chiarito che dal suo punto di vista ci sono parecchie forme d'arte. C'è l'arte povera, l'arte popolare, la grande arte, così come ci sono vari tipi di cucine. L'arte della cucina in fin dei conti ha dei rapporti stretti con l'evoluzione delle altre arti. Una volta c'era la salsa che univa tutto nel piatto, oggi invece c'è un insieme di componenti che nel piatto danno il colore, attirano l'occhio e incominciano già a far lavorare la mente su quello che può essere il sapore del piatto stesso. Non si parla più di ricette a certi livelli, ma si parla addirittura di progettare un piatto. Uno storico nell'Ottocento ha detto addirittura ci sono cinque arti, la pittura, la scultura, la poesia, la musica e l'architettura. Direte non c'è la cucina. Questo storico ha detto all'interno dell'architettura possiamo parlare di pasticceria, quindi ci ricolleghiamo di nuovo alla cucina. Perché? Perché la pasticceria è comunque studio, tecnica, ma anche progettazione. Quindi la pasticceria si può definire una branca dell'architettura. E non per niente appunto la gran parte dei nostri dolci, alla fine se andate a vedere, quelli prodotti anche industriali, sono stimolanti proprio addirittura innanzitutto dall'aspetto estetico e scenografico. Molte volte veniamo attratti magari da un prodotto solo perché ci ispira quell'immagine che ne viene data. Anche la struttura di un pranzo, in definitiva, può ricalcare una certa forma d'arte. Nel 600 c'era la grande cucina ostensiva che si potrebbe quasi rapportare a dei grandi affreschi. Poi nell'800 c'è stata appunto una grande evoluzione a livello culinario perché comunque si è incominciato a inserire l'antipasto, il primo, l'intervallo, il secondo e il gran finale con i dolci. Adesso stiamo arrivando più a una rappresentazione di un piccolo quadro. Tant'è vero che la gastronomia italiana, e di questo ci tengo a precisare italiana, è diventata un'arte. Un'arte che può dare l'esempio a tutto il mondo. Un'arte, a parere di chi sta parlando, che può dare addirittura, se spinta nel modo giusto, rilancio anche un'economia italiana che possiamo dire oggi come oggi è un po' decadente, o perlomeno fa fatica a riemergere da tutte queste crisi. Perché? Perché alla fine la nostra cucina è unica. Siamo il paese dove comunque da nord a sud abbiamo una storia della cucina che si è sempre legata all'arte. Mi vengono in mente certi quadri, certe nature morte che comunque rappresentano sempre il mangiare di per sé, che forse in quel momento non ci trasmettono niente, ma immaginiamo il pittore che in quel momento stava dipingendo e davanti appunto a quei frutti, immaginava che cosa voleva rappresentare. Mi aggancio adesso invece al convegno che c'è stato qualche anno fa a Pollenzo, che parlava appunto di arte e cucina, proprio di arte e cucina. Una giornalista, Anna Rivoletto, secondo me ha riportato eccellentemente le parole dello chef Massimo Bottura, che potremmo definire forse in Italia uno chef artista, quello che ci sta dando l'immagine proprio di come arte e cucina possano sposarsi insieme. Lui stesso ha dichiarato, le arti seguono l'evoluzione del loro tempo, perché sono specchio appunto dell'intelligenza del mondo. Quindi è vero, parliamo di arte, questo concetto è cambiato nel tempo, è cambiato nel corso dei secoli, dai greci che volevano appunto intimamente legata alla tecnica, alla cucina, fino al romanticismo, epoca in cui esplosa la concezione della genialità, dell'originalità senza regole addirittura. L'arte, in quanto arte, è sempre associata ai sensi, ma anche il cibo chiama in causa gli ostri, perché attraverso i sensi riusciamo a riconoscere il valore di un'opera culinaria, innanzitutto quelli visivi, poi ovvio andiamo sul gusto. Quindi riusciamo a distinguere le differenze, diamo i giudizi che possono essere più precisi, più raffinati. Quanto più i nostri sensi sapranno leggere questo piatto e il suo contenuto, quanto più riusciremo a capire l'opera d'arte che è stata messa davanti a noi. La cucina oggi è un insieme di idee in definitiva, è un'opera d'arte che posa le sue basi sulla tecnica, sui valori e si fonda sulle idee. L'arte, alla fine, è un'emozione, così come lo è la cucina, ma anche il singolo prodotto che noi mangiamo, così come lo troviamo in natura e non lavorato, può e vuole essere emozione. L'arte, in fin dei conti, è capace di evocare e rievocare continuamente emozioni. E certo, non si può dire che quando noi mangiamo un piatto non possiamo sentire lo stesso. L'arte è cambiata, sta cambiando anche la cucina. Quello che ci emoziona quando stiamo davanti a un piatto, in definitiva, è proprio quell'insieme di colori che oggi ci possono essere, gli abbinamenti, quello che ci colpisce dopo che la nostra vista è stata stuzzicata e poi quel senso del gusto, il sapore. E quando un piatto è creato ad arte, sicuramente il primo boccone ci dà un impulso a livello anche cerebrale che non possiamo dimenticare. Questo avviene ad esempio con i ricordi, quei ricordi indeleboli che abbiamo conservato da bambini, il sapore di un pomodoro maturato al sole, i profumi magari di un determinato cibo cucinato come facevano le nostre nonne. Quindi oso dire che arte e cucina oggi nel 2016 si sposano effettivamente alla grande. si potrebbero quasi fare dei musei artistici dove comunque arte e cucina vengono rappresentate dal vivo perché sono sicuro che il pubblico apprezzerebbe veramente tanto. Io per oggi penso di non dover dire nient'altro se non quello di provare a ricercare quest'arte nella cucina e la cucina anche artisticamente in modo da farla evolvere e vedere che cosa ne nascerà. Sicuramente tante buone cose. Grazie.